Siamo arrivati all'appendice sportiva, iniziamo con il calcio mercato che riguarda il Pescara. Operazione conclusa per l'arrivo in maglia bianca azzurra di Nicola Rigoni. State vedendo alcune immagini del centrocampista classe 90 che arriva in prestito dal Monza. L'ex Chievo è arrivato già in città, vedete, sta indossando la maglia bianca azzurra. Mezzala di struttura, ma utilizzabile anche da vertice basso o a due, Rigoni ha militato prevalentemente in Serie B, collezionando in campionato circa 150 presenze con le maglie di Vicenza, Regina, Cittadella e appunto Monza, squadra con cui ha giocato però pochissimo, appena 5 minuti in campionato, nella trasferta di Venezia dallo scorso dicembre.